Dalla Dakar all'Epic Israel, il passo è breve almeno per lui, Stefano Marrini, driver aretino che si prepara ad una nuova avventura, questa volta sulle due ruote. Dopo l'esperienza all'ultima Dakar, la seconda in carriera, Marrini prenderà parte tra pochi giorni ad una delle corse più estreme nel panorama delle mountain bike. Mi sto preparando per l'Epic Israel, è una delle epic più conosciute al mondo, ovviamente, dopo quelle più importanti che sono il Sudafrica, l'Australia, la Svizzera, però una presenza curiosa, piacevole, stimolante, vediamo un po'. Cosa ti ha spinto dopo aver affrontato tanti anni di rally, aver affrontato la Dakar, a voler intraprendere questa avventura con la mountain bike? Sicuramente credo che questa avventura sia figlia della Dakar, comunque la Dakar è un evento che ti segna la vita, che trasmette comunque delle sensazioni, delle emozioni, che in qualche modo vorrei riprovare anche con le due ruote, che paradossalmente sono comunque una mia prima passione, prima di essere pilota sono stato ciclista anche di buon livello. E ovviamente in questo momento ho unito un po' l'utile al dilettevole, perché comunque, vabbè, questo utilizzo delle biciclette che sono di mia produzione. Non c'è qualche timore o qualcosa che magari ti frena nel intraprendere questa avventura, perché comunque andrai a Israele, ci sarà comunque anche un percorso selettivo? A quello assolutamente sì, ovviamente come ho dichiarato, lotterò contro il tempo massimo, non contro i primi, questo è fondamentale. Certo, tre giorni intensi, 117 chilometri, 107, 68, per comunque una persona che come me, fino a tre mesi fa era distante anche dal salire su una bicicletta, è sicuramente difficile. Ma ovviamente è la parte più stimolante, perché comunque, ripeto, l'elemento trainante di tutta questa operazione è comunque la sfida un po' con me stesso, nel dire ci riuscirò oppure meno, penso di riuscirci, però almeno ci spero e ci provo. Che tipo di percorso è quello che affronterai? Il percorso dovrebbe essere un percorso montagnoso, fatto di pietre, ma in questo momento, fortunatamente, considerando anche le nostre condizioni meteo, sicuramente asciutto, perché comunque ancora giù sono 30-32 gradi, la temperatura sicuramente influirà anche lì nell'aumentare quelle che saranno le fatiche. Però, tecnicamente, non credo che siano percorsi difficilissimi, ma nel mio caso è la distanza che veramente sarà difficilissima da affrontare. La Dakar, l'Epic Israel, cosa ci dobbiamo aspettare da Stefano Marrini nel futuro? Beh, stai, realisticamente parlando, sono arrivato spesso alla conclusione che più della Dakar non c'era altro, quindi o vado a correre sulla Luna, ovviamente, quando faccio queste battute, riconosco sempre il fatto che, spesso e volentieri, io comunque mi sono, tra virgolette, accontentato di partecipare, perché comunque, soprattutto nei sport motoristici, contano tanto i budget economici, cosa che io comunque duro fatica ad avere. Quindi, appunto, privilegiando quella sorta di spirito d'avventura, sono arrivato lì, ci vorrei ancora rimanere, appunto, è in programma anche la partecipazione del 2016, però più di lì duro fatica anche a pensare a qualcosa di diverso. Diciamo che nelle due rote non mi dispiacerebbe l'idea, ho in mente due o tre situazioni, che sono quelle che ho detto prima, che sono la Cape Epic in Sudafrica, la Crocodile Trophy in Australia e, ovviamente, l'Atacama Desert Challenge, e, ovviamente, la Crocodile Trophy in Sudafrica, 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 la